Il vero senso del Natale lo ritroviamo negli occhi dei bambini che si illuminano grazie allo spettacolo del circo. Lo ha affermato il cardinale Crescenzio Sepe che si è fatto promotore di una grande iniziativa di solidarietà accolta a braccia aperte dall'amministratore unico di Pareo Park e console della federazione russa Vincenzo Schiavo e dal circo di Moira Orfei. Lo spettacolo inaugurale del circo Orfei a Giuliano infatti è stato dedicato ad un pubblico d'eccezione famiglie meno abbienti individuate dalla diocesi di Napoli e provincia ed i figli dei militari dell'esercito impegnati in missioni all'estero. Oltre 100 chiese del territorio napoletano che hanno convolto i ragazzini della Campania. Sono qui oggi oltre 1000 ragazzini insieme al cardinale per poter insieme gioire della bellezza del circo e del momento in cui la nostra terra si abbraccia con tutti i ragazzi e la comunità del nostro territorio. Questa è un'opportunità grazie al cardinale Crescenzio Sepe che ci dà l'opportunità di mettere insieme tutta quella parte bella del nostro territorio napoletano. E soprattutto un Natale dei bambini, della gioia dei bambini. Un sorriso di un bambino. E' il Natale più bello che si possa immaginare. E allora con il circo Orfei e poi con la partecipazione anche animatore, cominciare dal nostro console russo, il dottor Enzo, e l'esercito e la comunità russa anche si sente coinvolta. Mi pare che è un sorriso internazionale. Un sorriso che non ha frontiere, che non ha separazioni e soprattutto un segno concreto, reale di quella solidarietà che è lo spirito tipico del Natale. Io credo che un regalo più bello non si poteva fare per i nostri bambini che è appunto invitandoli a stare un po' insieme e a vivere insieme, a giocare insieme. E' la serata dove regaliamo un sorriso, un abbraccio. Era questa la nostra volontà, quella di stare insieme al Cardinale Crescenzo Seppe, il pastore della nostra chiesa che da anni combatte i diritti del sorriso dei bambini. E siamo solo onorati questa sera di poter non avere frontiere ma di stare tutti insieme, comunità russa, esercito e tutta la comunità della Curia di Napoli a fianco ai bimbi per farvi sorridere.